Exoratix, benvenuti! Oggi siamo qui con questo bellissimo nuovo arrivo, Mercedes Città. Nella parte anteriore possiamo notare subito la griglia cromata e i fari fendinebbi. Passando alla parte laterale possiamo notare subito i cerchi in lega, rigi, molto carini. Si tratta di un mezzo di lunghezza circa 4,32 metri e che ha una larghezza di circa 2,14 metri. La parte posteriore possiamo notare subito, la parte dei sensori di parcheggio posteriori, in più abbiamo anche la retrocamera di parcheggio. Internamente invece bagagliaio molto ampio. Passando invece alla parte posteriore possiamo subito notare chiaramente i 5 posti, molto spaziosa e vediamo anche gli attacchi ISOFIX su entrambi i sedili laterali. Passando invece alla parte anteriore possiamo notare subito gli interni in tessuto con sedili riscaldati anteriore, attenzione importante. Vettura con cambio manuale a 6 marce, motorizzata a diesel, 1.5 con 110 cavalli. Abbiamo eventualmente anche il climatizzatore automatico, anche con aria condizionata. Abbiamo eventualmente anche l'autoradio già integrata con la possibilità eventualmente di inserire anche il bluetooth. Sulla parte superiore possiamo notare anche i due vetri panoramici, sia anteriori e il terzo che è quello posteriore. Si tratta di una bellissima vettura immatricolata nel 2016 con circa 115.000 km all'attivo. Trovate questa e moltissime altre occasioni sul nostro sito ratix.com. Excellente.